Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre su Magis of Lotus. Oggi è un video un pochino particolare che parlerà in qualche modo di standard, allo stesso tempo anche un ragionamento su quelli che sono gli investimenti, perché in qualche modo i mazzi che entrano ed escono influenzano inevitabilmente il costo di alcune carte, quindi un paio di ragionamenti veloci. Vi anticipo che è un articolo preso dal sito ufficiale di Magic, magic.ggnews, vi linkerò poi anche l'articolo originale in descrizione. Sostanzialmente andremo a riassumere quelli che sono i winner e i losers della rotazione dello standard. Carte annesse, quindi carte che non ci saranno più o meno. Prima di iniziare molto velocemente ragazzi vi ricordo il nostro sponsor, Fantasia Storm, dove trovate un sacco di prodotti super interessanti. E inoltre con il codice sconto Lotus 5 scritto maiuscolo avete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già in offerta, non già scontati. Quindi dateci un'occhiata se dovete comprare un regalo, dei box, un pop, qualsiasi cosa, trovate veramente tantissima roba. Detto ciò partiamo con il video. Allora, prima di tutto la cosa più importante, cioè come, cosa succede e come ruota lo standard. Allora lo standard voi sapete che ha subito una recente modifica e che praticamente ha allungato la rotazione da due anni a tre anni. Quindi sostanzialmente i set adesso coprono tre anni più o meno dall'uscita. Questo significa che lo standard ad oggi, quindi prima di Bloom Barrow, praticamente va fino a Innistrad più o meno, va fino alla prima uscita di Innistrad, Innistrad non vecchio, quello nuovo, che sono tre, sei, no, dodici se dovrebbero essersi, dodici espansioni in totale. Con l'uscita di Bloom Barrow escono i due Innistrad, Kamigawa e Capenna, dallo standard. Quindi si partirà poi da Dominaria in avanti, come set, avete qua lo schemino, ma comunque da Dominaria in poi. Quindi nell'immediato ci saranno molte meno carte, perché ovviamente entrando Bloom Barrow ci saranno quattro set in meno, ma ne entra solamente uno. Quindi lo standard si ridurrà di molto come dimensione, ma ruoteranno fuori veramente tante carte che secondo me stanno rappresentando in maniera pesante lo standard in questo momento. E questo ovviamente influenzerà anche il costo di queste carte, che inevitabilmente scenderanno di prezzo. Quindi dateci un occhio, se ne avete quattro copie, magari finché sono alte, potreste pensare di darne via qualcuna. Ovviamente dipende dalle carte. Detto ciò, partiamo da quelli che sono i mazzi perdenti, cioè i mazzi che perdono di più dal cambio di formato, dalla rotazione. Indubbiamente Esper Midrange. Esper Midrange, ragazzi, perde tutto. Perché perde Rafin, che è la carta chiave del mazzo, la carta che teneva in piedi il mazzo. Perde Wedding Announcement, che è una carta fondamentale per battere un sacco di mazzi. E perde Dennick, quindi perde tre carte che rappresentavano il mazzo da sole. Rafin prima di tutte, ma anche le altre due veramente tanto importanti in questo deck. Quindi Esper Midrange, proprio un super loser, perde tre carte fondamentali. Credo che non ci siano attualmente sostituzioni valide per mantenerlo nel formato. Quindi probabilmente è un mazzo che ruoterà via in maniera totale. A Zerius Controllo anche perde tanto. A Zerius Controllo è un mazzo che può in futuro riguadagnare qualcosa, ovviamente. Ma in questo momento perde Wandering Emperor, Memory of the Lash e la Marcia Bianca. Che sono tre carte incredibili, incredibili. Si giocano addirittura in Modern, si giocano in Pioneer. Sono tanto forti queste tre carte. Vederle perse tutte e tre contemporaneamente è una botta pazzesca per quanto riguarda A Zerius Controll. Che anche in questo caso con Bloom Barrow non va a sostituire praticamente nulla. Anzi, ha solo delle perdite. Quindi un mazzo che magari potrebbe tornare in un secondo momento con l'uscita di nuovi set standard. Ma è chiaro che togliere tante carte così de botto lo ammazzerà. Cioè sicuramente nel primo periodo da Zerius Controllo calerà tantissimo come giocabilità. Poi abbiamo Four Color Legends. Four Color Legends è un mazzo particolare, me ne rendo conto. Però nonostante sia ancora in qualche modo giocabile, perde tutte, sarebbe ancora giocabile, scusate, perde tutte le terre leggendari. Perché perdendo Kamigawa va a perdere Takenuma, Otawara e Boseiju tutte in un colpo solo. È chiaro che da uno dei mazzi secondo me più forti diventa veramente un mazzo praticamente impensabile. Tra l'altro pure Slowgurk esce fuori, quindi non c'è veramente più strategia da parte di questo mazzo. Lo vedo veramente in difficoltà, penso che cambierà drasticamente. Probabilmente non esisterà più Four Color Legends, magari si chiamerà in un altro modo. E integrerà completamente altre carte. Poi abbiamo Domain Ramp. Domain Ramp è un altro mazzo che credo che non reggerà la botta. Domain si basava sul fatto di avere tutti i colori e poter castare carte come le Line Binding. Il problema è che adesso escono fuori Triomi con la rotazione. Quindi andiamo a perdere tutte quelle che sono le carte, le terre che andavano a fare tre mana diversi da sole. Questo è un problema gigantesco per un mazzo che vuole avere Pentacolor e credo che non reggerà la botta. Cioè senza Triomi è un mazzo veramente impossibile da giocare, lentissimo. Mi dispiace, carissimo Domain Ramp perché mi piacerà tantissimo. Credo che ci abbandonerai. Un altro mazzo è Temura Analyst. Temura Analyst si basava pesantemente su una carta. Che è questa Warsaw Rage che in questo caso non mi apre ma l'apriamo magari brevemente. Scusate, lì imprevisto. Giusto per spiegarvi la combo brevemente. Questa carta qua che sostanzialmente ci permetteva di fare una valanga di danni a un avversario. E poi pari a X. Costa X è due Grul, un rosso e un verde. E poi mettere X carte dalla mano e o dal cimitero nel campo di battaglia tappata. La combo era molto forte basandosi però su le varie terre che andavano al cimitero. Perché ovviamente potendo metterle dalla mano e dal cimitero tutte le terre fecciabili andavano al cesso e poi tirando il botto le riblandavamo tutte assieme. E queste di nuovo sulle tibia andavano al cesso e ci tutelavano terra. Quindi la sinergia era estremamente forte. Così forte che qualcuno addirittura chiamava il ban, devo dire che ormai non ci sarà più questo pericolo dato che Capenna ruota fuori e di conseguenza anche le terre fecciabili. Questo ovviamente ammazza il deck in modo inevitabile, va a togliere la combo principale e sicuramente lo renderà KO tecnico. Mono rosso, Mono rosso perde ragazzi Kumano e Play with Fire. Anche devo dire l'adversary che era una carta molto importante per Mono red ma secondo me il dolore maggiore è proprio Kumano. Kumano era sicuramente un drop a 1 solidissimo, faceva danno, diventava una creatura. Perdere una carta così per Mono rosso è drastico. E comunque anche qua perdere anche lo shock del formato e adversary che è comunque una carta con un power level molto alto per lo standard senza sostituirlo perché comunque non ci sono carte che sostituiscono queste. Vuol dire sostanzialmente KO del mazzo anche in questo caso. Quindi Mono rosso ci saluterà secondo me per un breve periodo per poi tornare perché Mono rosso torna sempre ed è sempre giocabile. I winner, allora sui winner mi soffermo molto di meno perché secondo me è difficile intuirli. Prendo quello che dice l'articolo molto alla leggere, molto veloce perché mentre i loser sono evidenti e ci arriviamo tutti, i winner potrebbero non esserlo così tanto e secondo me va esplorato il meta un pochino prima di capire quali sono i veri winner. Però è inevitabile che con l'uscita di Bloom Barrow tutte le tribe supportate possano trarne vantaggio. Conigli, lontre, scoiattoli, bestie di satana, tutte quelle che sono le tribe di Bloom Barrow e sono veramente tante sicuramente potranno trarre un bel value dall'uscita. Quindi potrebbero nascere dei mazzi incentrati su proprio queste carte. Può sembrare banale però devo dire che secondo me sarà molto rilevante dato che veramente le tribe sono supportate tantissimo in questa espansione, tantissimo. Poi abbiamo Golgari Midrange. Golgari Midrange in realtà più che un mazzo che vince è un mazzo che non perde. Nel senso che perde poca roba e rimane uno dei mazzi più solidi del formato. Quindi è più corretto dire che è un mazzo che non perde piuttosto che un mazzo winner di questa rotazione. Perde praticamente pochissimo, forse la carta più brutta o più bella dipende dal punto di vista è la Graveyard Trespasser. Però devo dire tutte carte sostituibili, non ci sono grossi problemi. E tra l'altro, dall'altro lato si perdono carte importanti come il Wedding Announcement, Emperor, eccetera. Anche il Make Disappear, Phantom Interface non c'è più ma Make Disappear con Phantom Interface si usava molto. Quindi si vanno a sgonfiare tutti quelli che erano i nemici di Golgari Midrange e lui non perde molto. Quindi secondo me è mazzo solido che rimarrà giocatissimo. Simich Cookies, mazzo particolarissimo invece che tra l'altro ha fatto dei bei risultati recentemente. Perde qualcosina perché va a perdere Otawara e Boseiju che erano due carte comunque discrete, però perde di più l'altro lato anche in questo caso. Di là si va a perdere, i Mono Red vanno a perdere carte come Cubano, Borros Convoke va a perdere carte come Epicur. Quindi veramente si sgonfiano i Mechia Brutti. Quindi anche in questo caso più che un vincitore è un non perdente. Si vanno a sgonfiare i Mechia Brutti dall'altra parte, inevitabilmente salgo io come mazzo. Questo è chiaro. Poi abbiamo Selesnya Toxic. Selesnya Toxic è un mazzo principalmente basato sull'espansione di... ovviamente su Toxic di Pirexia, scusatemi non viene al nome. È chiaro che un mazzo che ha praticamente tutte le creature, adesso qua mi dai token purtroppo la grafica ma si capiscono, di una sola espansione, fin quando quell'espansione è una ruota fuori è vivo, è vegeto. Toxic è uscito tutto su Pirexia e quindi praticamente il deck rimane completamente invariato. Non cambia assolutamente nulla al mazzo. Mentre dall'altro lato si perdono diverse cose. Tra l'altro, molto importante, si perde Endfestivities per il rosso, che è una carta che poteva fare veramente tanto male a questo deck. Quindi solo gioie per il buon Toxic. Simish Calderone, anche questo è un mazzo che ha fatto degli ottimi risultati di recente. Secondo me anche in questo caso non è un vincitore ma è un non perdente. Anche qui vale lo stesso discorso, cioè semplicemente non perde carte particolarmente valide e quindi è considerato un vincitore in questo articolo. Non un vero e proprio vincitore, così come anche Azorius Soldiers che l'hanno messo come ultimo per il fatto che nonostante perde tante carte potrà integrare nuove belle carte e basare il mazzo magari su carte come Aruki e simili che invece potranno fare molto bene. Devo dire su questi ultimi, quindi Azorius Soldier, Calderone e no, Selesnia no, e Calderone solo questi due, mi riservo un pochino. Cioè secondo me non sono mazzi che guadagnano praticamente nulla. Li ho citati perché erano citati nell'articolo e mi sembrava corretto, però non li trovo così validi come vincitori, perché non guadagnano niente. Non sono veramente dei winner secondo me. I veri winner sono appunto i mazzi tribe. I mazzi tribe perché guadagnano delle carte effettivamente e possono integrarli. Gli altri sono semplicemente dei mazzi che rimangono bene nel meta. Tolti quei due che ho detto, quindi Selesnia e anche Midrange, perché vanno a indebolire i matchup brutti. Quindi in quel caso sì che sono dei winner, perché se si indeboliscono i matchup brutti allora è normale che loro salgano. Detto ciò ragazzi, spero di non essere stato troppo lungo in questo contenuto. So che lo standard in realtà non è un argomento che interessa moltissimo, ma ho voluto comunque dare una panoramica velocissima su quello che sta succedendo, perché la rotazione dello standard secondo me lo rende un formato molto differente e anche molto carino sotto certi punti di vista. E proprio su questo argomento vorrei sapere cosa ne pensate nei commenti, quindi scrivetemi cosa ne pensate dello standard in questo momento, perché secondo me potrebbe essere un formato che si rivaluta molto. È una mia opinione, ma la scopriremo man mano che passa il tempo e voglio sapere anche la vostra opinione. Detto ciò, grazie a tutti per l'attenzione come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!